Il vice sindaco dell'Aquila, Nicola Trifuoggi, è indagato dalla Procura della Repubblica del Capoluogo nell'ambito di una inchiesta che, ipotizza egli stesso, potrebbe riguardare una richiesta di sanatore di alcuni cittadini, da lui non accolta, relativa ad un manufatto provvisorio in legno costruito dopo il terremoto del 2009. Con Trifuoggi sono indagate altre 12 persone, tra cui il figlio Giuseppe. Il titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli. Non sapevo nulla e non mi sono stati notificati atti e, da quanto ho letto, il procedimento è destinato a essere archiviato, ha affermato Trifuoggi, ex procuratore della Repubblica di Pescara. Leggendo i nomi degli altri indagati, credo di poter ricostruire la vicenda che è di qualche anno fa. In effetti, nel procedimento, come affermano alcuni media, viene stracciata la posizione dell'ex magistrato e degli altri indagati, disposizione che gli saluto prelude ad una richiesta di archiviazione. Ero già vicesindaco, ricorda. Mio figlio mi chiese di ricevere il suo istruttore di arti marziali. Io ricevo tutti in comune e così venne accompagnato dal cognato. I due chiesero al vicesindaco che possibilità ci fossero di sanare la costruzione di una casetta in legno in zona di esondazione. Io, prosegue Trifuoggi, rispose che non c'era alcuna possibilità e loro andarono via. Da allora non avevo saputo più nulla di questa storia fino ad oggi. Il vicesindaco dell'Aquila, accreditato per sua missione di candidatura sindaco alle prossime elezioni comunali di giugno, in una forza diversa dal centro-sinistra, con cui comunque governa attualmente, vede nella vicenda giudiziaria dei risvolti politici. È legata la mia candidatura? Sicuramente sì, ne sono certo, ha affermato Trifuoggi. Me lo aspettavo, perché so che da un anno si prepara un dossier su di me, per screditarmi. Inoltre, di recente, un consigliere comunale di minoranza è venuto a informarmi, dissociandosi, che un'altra forza politica cercherà di maciullarmi sulla mia onorabilità. Io comunque vado avanti.